finalmente torniamo a casa dal 3 marzo stiamo tornando da milano quando ci vuole un treno da milano a napoli quando ci vuole arriviamo giusto il 3 marzo che andiamo in diretta giusto il 3 marzo alle ore 21 finalmente metti in giro finalmente a casa io ti voglio bene dal 3 marzo metti in giro auguri